Ieri il taglio del nastro, oggi i bambini che si siedono sui banchi di un edificio scolastico nuovo di zecca è atteso da anni. E' stata inaugurata ieri la nuova scuola primaria di Tavuglia intitolata a Vittorio Giunta. Una nuova scuola all'avanguardia tecnologica e di sostenibilità che ospiterà fino a 250 ragazzi, completando un polo scolastico tavugliese da 0 a 14 anni. Finalmente ci siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta. E' la prima frase che mi è venuta in mente pensando a questa scuola, a questo lavoro. E' stata lunga, piena di ostacoli e questa grande squadra che ha lavorato per vincere la partita alla fine ce l'ha fatta. Il progetto iniziale costava 4 milioni e 350 completamente coperti dai fondi della programmazione triennale 2018-2020, quindi MIUR. Poi nel tempo è diventata un'opera PNRR, quindi siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo, che scadono nel 2026 i lavori e noi questa è una delle prime opere che finiamo importante perché alla fine è costata 6 milioni. Io sono molto emozionata, devo dire, perché come tutti i sindaci, penso che sia uguale per tutti, e quindi inaugurare una scuola per mettere a dei bambini che dal vecchio passano al nuovo è la storia, è la storia di un paese. Noi riusciamo anche con questa scuola a portare a compimento un progetto ambizioso che è un polo scolastico 0 a 14 anni. I prossimi mesi concluderemo anche i lavori per l'asilo nido e arriviamo quindi così a completare questo ciclo. Questo plesso è la nuova primaria di Tavuglia che si va a integrare in un polo più ampio, come diceva la sindaca, che comprende l'infanzia, la scuola secondaria e tra qualche mese comprenderà anche il nido. Quindi è un esperimento pilota a livello regionale per una formazione, un percorso 0 a 14 anni. Come vedete questa è una scuola all'avanguardia, un plesso che offre tutte le possibilità per attuare una didattica innovativa, una didattica che veda i nostri ragazzi sempre più attivi e sempre più protagonisti e che educhi di per sé alla collaborazione, al rispetto e al lavoro di squadra. Questa è una scuola che ha delle caratteristiche molto importanti perché essendo una struttura che ha delle prestazioni sismiche altissime, è una struttura che ha anche delle prestazioni energetiche e acustiche molto elevate. Considerate che è una struttura, è un edificio N-ZEB, parliamo di un edificio che è costituito da un corpo principale che è la scuola di circa 1600 metri, che è collegato a una mensa e con un ponte coperto e chiuso viene proiettata verso la palestra superiore, quindi parliamo di un edificio che ha una superficie coperta di circa 2500 metri. È il secondo edificio che inauguro da questo inizio dell'anno e devo dire che sono estremamente felice perché il mio sogno, come ho detto a Subissati che ha fatto questa scuola e alla sindaca Francesca Paolucci è che il mio sogno è quello che si vada in una scuola col piacere di andarci. Oggi molte scuole hanno dei luoghi angusti dove andare, non luminosi. Non è idoni, secondo me, alla scuola che si fa oggi a far volare la fantasia. Questa qui la vediamo, è bellissima, è stupenda, ha una visuale a 360 gradi ed è un posto luminoso, un posto sicuro e un posto eco-compatibile perché questa struttura è eco-compatibile. Questi sono gli investimenti migliori perché sono gli investimenti sul futuro. Siamo orgogliosi di come l'amministrazione comunale della città di Tavuglia ha lavorato e siamo anche molto orgogliosi per l'opportunità che si darà a questa comunità di poter usufruire di una bella struttura come questa.